il vostro Ema Tigre qui nello spogliatore del Floricoltura Saletti qui con me è presente il bomber soprannominato bomber Costa attaccante della squadra non è che vorresti fare un piccolo commento sulla partita? Ciao a tutti ascoltate niente la partita è cominciata un po' così e così eravamo un po' imballati però dopo giocando sempre ai nostri livelli insomma abbiamo portato a casa un bel 7 a 1 diciamo che è inutile nasconderci puntiamo alla Champions League e quindi vediamo logicamente c'è il Napoli e la Juventus che ci daranno filo da torcere però insomma niente tutto qua complimenti ai miei ragazzi peccato che la squadra avversaria dopo un po' ha mollato un po' diciamo fisicamente hanno mollato un po' però erano molto molto bravi insomma e come vedete il ritorno alla luce visto che ormai siete primi in classifica? eh ormai abbiamo vinto il campionato insomma no scherzo eh scherzo ormai il campionato è lungo e insomma è inutile parlare adesso comunque niente non ci nascondiamo puntiamo a vincere alla Champions perché con un bomber come me insomma è ok e adesso concludiamo con gli auguri di Natale facciamo gli auguri a Santa Claus dai tutti dietro tutti non so che neanche gli altri allora un attimo un attimo stanno arrivando tutti facciamo vedere per uno sponsor? lo sponsor è Floricoltura Saletti eh auguri! 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 auguri!